Prampartino, campanaro, dormi tu, dormi tu, suona le campane, suona le campane, sincron suonano, suonano suonano. I genitori possono anche fare, per esempio, il gesto grafico, giù, su, questo è quello di un altro spartito, questo insegno in giù, questo insegno in su, arco in su, arco in giù, arco in su, questo è quello di un altro spartito e questo insegno in giù, e questo insegno in su. Se voi notate nelle orchestre, i violinisti, la fanno sempre le stesse arco, non è che uno può andare in giù, o in su, c'è tutte le quarte arco, anche i violoncettini, in genere le arco delle pentese, il primo violino, il primo violino decide come sono le arco, e tutti gli orchestrali può pensare le arco delle arco. Il primo violino, il primo dei primi e il primo dei secondi, perché ci sono, i violini sono i violini primi e poi ci sono i violini secondi. Allora c'è sempre la spalla dei primi, che il primo ha messo qua, e che dice delle cose per i primi, e la spalla dei secondi, perché ci sono delle gerarchie, voi non lo sapete, ma ci sono delle gerarchie. e poi il concertino in genere è la vittima della spalla. C'è quello che gli sta accanto, e se la spalla sbaglia, il concertino deve sbagliare con la spalla più sbagliata. Eh già, eh! Ah, no, va bene. Questo, speriamo che non accada, cioè voglio dire, non ce l'avete. Però faccio la spalla. Il mio video si è trovato a far suonare con un'archessa alla settimana nascosta, in cui c'è questa violoncettisa grande, che è la sorella del direttore, che fa la spalla. E gli hanno chiesto, chiamami, mettiti come concertino, perché sennò ci fanno avanti la baraccia. E ora si è messo vicino. Poi, siccome lui, il ragazzo di Giovanni, non mi importava di mettere la spalla, sei sbagliato, è stato zitto. Si è permessa quella dietro, che è una ragazza di 25, 6 anni, e fa alla spalla. Siamo sbagliati. No? Ma che credi che non me ne si accorta? Lulù. Ma come si fa? Ma se era delle cose? Guardi le cose. Ah, guardi le cose. Ma poi non c'era. O te l'accordi se stai là. Oppure te ne vai dietro. Perché per dire... Michele, Michele... ... 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